Ciao a tutti, allora oggi vi parlo di molle insacchettate, di quantità di molle insacchettate all'interno di un materasso e quindi la, come dire, la falsa credenza secondo la quale più molle ci sono all'interno di un materasso e più elevata è la qualità dello stesso. Sfatiamo un mito, sfatiamo meglio una convinzione erronea, in realtà quello che fa la differenza, come sempre, sono le molle stesse o meglio la qualità dei materiali impiegati, quindi la qualità delle molle, il brevetto stesso e a proposito di quest'ultimo, noi essendo concessionari specialisti del marchio Simmons a Mondragone con il nostro marchio Morpheus, bene, possiamo dire oggi parlare di un brevetto esclusivo, uno dei brevetti esclusivi della Simmons che ci garantisce un elevato benessere. Perché mi direte? Perché ha una particolare predisposizione e quindi un'efficacia progressiva. Mi spiego ancora meglio. La molla insacchettata, quella del brevetto Simmons, uno dei brevetti, in un altro video vi parlerò di un altro brevetto ancora più avanzato, se vogliamo. Bene, la qualità delle molle insacchettate e quindi l'originalità delle molle insacchettate Simmons sta in questo, come dire, il sostegno e l'anatomia, il beneficio che può dare attraverso questo tipo di spirale che parte in questo modo e cioè ha una accoglienza iniziale, vedete, ha un'accoglienza iniziale con una compressione attiva. Ciò vuol dire che la molla, la spirale, accoglie, reagisce immediatamente al nostro peso, quindi ha questa reazione immediata al peso che si adagia sul materasso. Successivamente si ha una, come dire, progressiva allargamento della molla. Vedete, inizialmente c'è l'accoglimento e la spirale, zona di accoglimento, la spirale è più ravvicinata, è più stretta e ravvicinata. Successivamente cioè questo è, scusatemi, questa è la zona successiva, inizialmente vi dicevo si ha questa compressione attiva, quindi questa immediata reazione della molla al nostro peso. Successivamente si ha una compressione, si ha meglio una zona di accoglimento, sicché la molla, la spirale, si allarga e quindi garantisce un sostegno più adeguato, più accogliente al nostro corpo. Infine c'è la zona di sostegno laddove la molla, che cosa fa? Esercita questa funzione, cioè progressivamente si conforma, si adatta nel modo corretto, nel miglior modo possibile e quindi nel modo più corretto alla struttura corporea di ognuno di noi, garantendo un sostegno perfetto e quindi ideale per la nostra schiena. In definitiva, noi da tutto questo sistema brevettato della Simmons, che cosa ne ricaviamo? Maggiori benefici, una silenziosità perfetta delle molle, maggiori benefici in termini di accoglienza del nostro corpo, in termini di comodità durante tutto l'arco della notte, quindi del riposo e in definitiva una migliore qualità della vita quotidiana. Ecco, questo vuol dire scegliere un brevetto Simmons, scegliere un materasso Simmons con la qualità dei materiali che li contraddistinguono e quindi una garanzia assoluta, certa, di un prodotto che non ha uguali in termini di benefici, di vantaggi per il nostro benessere fisico e psichico. Bene, con questo io chiudo il video di oggi, vi saluto, vi ringrazio come sempre e vi aspetto al prossimo. Ciao!